Ciao a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Mentre siamo in isolamento, non abbiamo queste fuori casa e abbiamo deciso di scartare tutta la collezione, tutta tutta. Sì, per farvi conoscere le nostre bellissime palline. Oggi è il giorno della collezione di... E se non ci conoscete... Di Krozen 2! Krozen 2! Se non ci conoscete è perché è il nostro primo video. Infatti si vede che siamo ancora delle nuove linee, abbiate pazienza con noi. Sì, abbiamo... C'è, ti ho provato cinque volte. Va, possiamo iniziare. Ah, vi presentiamo Juanino, lo vedrete spesso passare perché lui segue sempre Natalì come un'ombra. Vediamo qual è il primo colore che è capitato, facci vedere. Facci vedere. Che bello questo violetto, meraviglioso. Juan, lecchi troppo! Attenta con lo sgabello, se no facciamo cadere tutto il video per terra. Lecchi troppo! Lecchi troppo! Allora... Cerco di aprirlo bene, bene. Scusate se non ve lo sto facendo vedere. È che è difficile farlo. Sì, bisogna scarpare. Se ti serve aiuto chiedi all'assistente. Non sono riuscita a farlo. Perfetto. Opla! È partita la pallina. Eccomi, eccomi! Eccola! Vai, apriamola! Vediamo come... Oh, 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 oh! Ah, sì, Juanino. Guardate, ma il colore che c'è dentro è ancora più bello di quello della pallina. E vi faremo persino una sorpresa. Questi, l'interno, hanno un charm. Ed è scritto nella macchinetta pure charm inside. Eh sì! Che può diventare anche un ciondolo di collana. Sì, però questo è troppo pieno di slime. Dopo il video lo toglieremo. Sì! Poi vi facciamo vedere anche una foto di quelli tutti ripuliti. Sì! E vi faremo la sorpresa. Eccolo! Wow! Mettiamolo qui. Dove lo mettiamo? Mettiamolo qui. No, il fiocco lo mettiamo qui. Ok, qualora. Sì, perché lo dobbiamo lasciare aperto. Voi, se lo prendete nella macchinetta quando finisce l'isolamento o la quarantena, cioè, non metteteli mai fuori, semmai giocateci, lo mettete fuori per giocarci, perché questi si seccano molto facilmente. Bravi, grazie, grazie, grazie delle istruzioni. L'assistente prende il contenitore. Perché dopo si secca, ma però si seccherà, perché lo sta mettendo fuori. Lo volete vedere? No, faglielo vedere alla fine, se no roviniamo la sorpresa, peccato. Ok, sì. Perché tanto... Secondo me sarebbe l'ora di prendere il secondo colore. Sì, però vogliamo fare una cosa. Ok, mettiamolo qua. E adesso facciamo il secondo. Quale scegliamo? Dimmi un colore. Lo vorrei, lo vorrei, bianco. Ok. Come... Bianco come la neve. Come il video di prima che abbiamo sbagliato, perché io l'ho stoppato per sbaglio. Tutta colpa mia. Non c'è problema, stiamo facendo il nostro primo video. E adesso... Apriamo il bianco, facciamolo per vedere. Quanto è troppo. Lo andiamo qua. Sì. Mamma lo sottiene mentre io ve lo faccio vedere. Vuoi venire? Certo. Ciao. Serve una mano ad aprire? No. Apriamo, apriamo, vediamo. Sì, ci sono riuscite. Wow. Wow. Vediamo com'è il crunchy slime all'interno. Wow. Guardate com'è fila. Fila. Sembrano i filetti del zuppini. Prendiamo il charm. Sì. A chi lo trova? Mi sa che sta dalla parte tua. No. Sì. No, non c'è. No, non c'è nemmeno qui, è impossibile. Non c'è, no, è misterioso. Sì, è riconosco. Secondo me qua c'è. Ecco, ecco, ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa. Brava. Perché questi tante volte nel fondo spesso si incastrano, però stavolta ammonelli. Guarda. Che bello. Anche questo. Adesso. Vieni, questo io prendo il charm e lo metto vicino a quello lì. Dopo facciamo vedere anche questi. Abboniamoli. Che belli. Adesso. Andiamo col terzo colore. Se non sai scegliere lo potresti pescare occhi chiusi. No, facciamo colore pesca. Sì. Poi me ne fai pescare uno. Sì, poi. Avviva. Era bellissimo. Ah, questo forse è il mio colore preferito. Sì, è colore pesca. E' bellissimo questo rosa. Voi forse lo vedete di un colore diverso, però è rosa pesca. No, sono riuscita a farlo perfetto. Bravissima. Questo ci hai messo un secondo. Apriamolo. E ve lo faccio vedere. Un attimo. E' bellissimo quel colore. Che l'incarto mi piace. Sì, stavolta non l'abbiamo rovinata, quindi la possiamo far vedere. E' venuto perfetto. Ancora così. Ti faccio vedere il charm. Wow. E' trasparente. Sì, mettiamolo qui tra gli altri. Mi metterai non ciondo, ma io quasi quasi. Puoi dare qua tutto. Un attimo. Un secondo solo. E passiamo al quarto. Sì, vediamo che colore capita. Prima lo trovo. Voi pescare te? Io rimango quasi. Davvero? Ma ne fai pescare una? Sì, me l'avevi chiesto. Grazie. Io faccio gli occhi chiusi. Vediamo che mi è capitato, dove giunciamo a voi. Occhi chiusi. Il celestino è chiarissimo, delicatissimo. Questo è l'azzurro, quello oscuretto. Perché vi faccio vedere i colori o l'avete già visto? No, si vedono, si vedono. Li avevano già visti? Sì. Pelline già aperte. Ciao, celestino. Ecco, che bello. Che aspettavamo? Aspettate. Tantalo sgabello, amore, perché se no accade tutto il telefono. Che bello, guarda come ha preso la forma per portare il lucido. È da ghiaccio. È bellissimo. È vero? Ma poi il colore dentro pure, guarda, sembra interziato, vedi? E fa anche delle palline di balsine. Per quanto... Ops, no, non lo mischiare. No, no, non lo mischiare mai. Perché? Lo so, devi fare un'operazione segreta finale, lo so, lo so. Non così con la pallina sopra. Lo so, lo so. È una sorpresina. Facci un po' vedere il charm. Un attimo, il charm. Dove sei? È scuro. Dove sei? È bellissimo. È scuro. Che bello, sembra di acqua marina. Sì, a me mi sembra ghiaccio. Guarda. Una volta ho pattinato sul ghiaccio e sono davvero brava. Eh sì, Natali fa pattinaggio. Sì, però lo faccio... A scuola non lo faccio sul ghiaccio, però lo faccio dai nonni. Wow, da già questo insieme di colori che bello. Passiamo la quinta pallina. Abbiamo superato la metà, eh? E' un piatto extra color. Ecco le nostre prime quattro. A me piacciono anche i contenitori. Ci si possono mettere dentro cose. Abbiamo aperto loro. Sì. È il turno di... E lo volete vedere tutti insieme? I charm. Belli. Così non si vede niente. Ma proprio niente. Scusate. Aspetta. Scusate, una per volta? Guarda. Tutti insieme? Sì, perfetto. Sì, deve un po' di più. Sì, li incolliamo oppure questi? Figo. Ecco! Che bello! E' un fucsia più chiaro. E' fucsia. Sì. E' come questo. Più scuro del rosa, più chiaro del viola. E' come questo. E' come questo. Beh, è un po' diverso, veramente. Sì. Sì, però come? Come? Sì. Beh, sì, è un po' cugino quel colore. Ah, è finita la musica. Eh sì, perché oggi che era Pasqua qui, hanno messo tantissima musica alle sei per festeggiare. Come i primi giorni dell'isolamento. Oh, apertura riuscita. Un attimo. Operazione scarto in corso. Sì, scusate se ci mettiamo un bel po'. Eh, sono le operazioni del mestiere. Che bello. Juan, perché? Juanino. Distrailo pochetto. Wow. Aperto. Bellissimo, fucsia. Questo è piaciuto pure a Juan, hai sentito? Tu cerca il charme. Sì. Cerchiamo metà per uno, io lo cerco in questa parte. Cioè, no, è qua, è qua, è qua. Eh sì, l'hai già sentito. Allora, aspetta che ti do. Mi fanno male i pollici. Ti aiuto io. Dammi, eh. Per questo esistono gli assistenti. Che bello il charme fucsia. Il charme fucsia. Tieni questo. Tanto deciso come il charme. Estraiamo tutto il charme dalla pallina, Juanino. Tutte le palline. Proviamo a lanciare un osso Juan. Ok. Dopo viene qua con l'osso tanto. Eccolo. Da poco non si vede nell'inquadratura. Se vai un po' più indietro si vede. Guarda. Eccolo. Ed eccole. Cinque palline aperte. Ci ne mancano tre. Vai con la sesta. Facciamo una cosa. Vai prima con la sesta. Wow, che mixone è venuto già. Quanti colori abbiamo fatto? Per un mix. Cinque. Stavolta non abbiamo fatto la monetina. Però, se avete quella per il carrello, vanno bene pure quelle di monetine. Sono belle per queste. Che bella questa arancione. Mi ricorda il tramonto. Sicura che non ti serve una mano? Pollici stanchi? No. Cioè, riuscita subito. Comunque queste macchinette si possono trovare a garbatella. E non solo. Tutta Roma Sud e litorale. Sì, soprattutto a garbatella si trovano. Eppure nei bar. Tabaccherie, edicola. Che bello l'arancione. Vai, fammi cercare anche a melciarmi in mezzo di quelli. Oh. Eccolo, l'hai trovato subito. Eccolo, lo troviamo. Lo puoi prendere secco. Guarda. Lo togliamo. Vediamo qua. Oh, mi sa che l'ho trovato io stavolta. Sì, lo hai trovato. Vabbè. Sì. Sì, non l'ho trovato. Lo tolgo io. Brava. Bene. Che bello. Wow. Ecco, anche l'arancione. Pronto. Che bello come un morbido. Wow. Sembra oro. Che vero. Wow. Sì, è proprio messo questo mix di slime. Era questa la sorpresa. Sì, aggiungiamoci anche gli altri colori. Ce ne mancano solo due, guardate che bello. Sì, ne mancano due. Mi prendo tutte e due. Non riesco almeno più a tenere in mano, anzi sì. Lilla o rosa? No. Ci manca un azzurro forte e il lilla. Dove è rosa? Aspetta, vediamo. Ma c'è rosa pesca, non l'azzurro. Ecco. Oh. Trovato. Non c'era nella macchinetta, quindi l'abbiamo preso dalla busta. Non fa niente. L'importante è che ci divertiamo. E così. Non mi piace manipolare questo. È una super palla multicolore. Aggiungiamo un altro? Vai, vai. Sì, sì. Voglio aggiungere questo. Guardate. Poi abbiamo un mix precedente. Molto bello che ora aggiungeremo. Delle altre palle. Fragno tutto insieme? Ti fai la palla come quella? Certo. Aspetta, mischio, faccio una mega palla mix. Un mixie bow. Ma qui dentro c'è un charme incastrato. Sì. Wow. Che c'è il tesoro? Ho trovato un charme. No, ci stanno uguali. Fucsia. È un doppione. Sì, è un doppione, ma... No, è troppo secco, guarda. È troppo secco questo lì là. È vero. No, non è vero. No, no, no. È troppo secco. È troppo secco. Cerchiamo quello giusto. Prendiamo un altro perché, scusate, era troppo secco. Perché non voglio consistenze brutte. Quindi ne facciamo uno più morbido. Lime. Ne prendiamo uno più morbido. Sì, ma con le dita io... Ma ho il sospetto che forse c'è un altro ancora charme. Sì, ci stanno tanti charme. Ma questo è una caccia al tesoro, ma è fichissimo. Eccolo, eccolo. Wow. Che bello. Quello lì la guarda, questo era perfetto. Qui ce n'era incastrato uno blu. Ma questo blu ve lo deve fare ancora vedere, quindi ve lo nascondo. Facci vedere lì la. Yeah. Guardate quanto è bello e intenso questo lì la. Sento il charme. Non sto toccendo. L'hai già trovato. L'hai già estratto. È morbidissimo, mamma mia. Wow. Che bello è lì la. Non potete sentire, ve lo vorrei mandare dal bustino e darvelo. Prendiamo tutto lo slime. Slime. Unisco? No, no, prima devo prendere pure... È vero. Questo. Zaccate, zaccate. Prendi. Nel frattempo il nostro Megamix... Uh, qua c'è un altro. Qua c'è un altro, l'ho sentito. Puniamo tutto. E così lo stiamo facendo. Vabbè, ma ci piace. Wow. C'era questo. Guardate. Ce l'ho rimasto io da aprire. Non mi filate a me. Pallina blu. Sì, sì, lo facciamo. Riapriamo. Abbiamo quasi finito il video. Eh sì, forse ce l'abbiamo fatta ad aprire tutta la collettione delle crunchy slime. Bambini di fronte in due. C'è un altro qua, in questo strato. Trovato. Questo video non è in diretta, per fortuna. È vero? Sì, no, è vero. Non è in diretta. Quindi lo potete vedere. No, pure questo è quello troppo secco. Davvero? Sì. Scusate per queste interruzioni. Però sono troppo secchi. Scusate se sono pignola, però. Mi fa tempo io. Non voglio fare video brutti. Guardate che figo. Si mischiano i colori. Ma non così tanto da fare quel colorone brutto che a volte viene fuori nei mix. Rimangono comunque un po' separati grazie al fatto che sono micropalline. E quindi il colore è bellissimo. Guarda. Sono più palline che slime. Fateci vedere questo bellissimo giurro. Salve il pavimento o i tavoli, tutte le basi d'ore per aprirli. Guarda, questa è una super palla rimbalizzona perché questo slime rimbalzabile. Che bello, è intensissimo quell'azzurro. È viola. Prevale un po' il viola perché abbiamo messo più viola. Però siedono anche tutti gli altri colori. Ma ora io voglio far vedere pure una cosa. Guardate che fa questo. diventa persino uno slime. Dopo giochiamo a calcio. E un mazzurro. Dopo giochiamo a calcio. Guarda, buono, gli piace. Zippolo. Zippolo. Facciamo vedere anche il charme. Vuoi prendere il charme? Certo. Lo puoi prendere, tu che? Vediamo se lo trovo io. Mi sa che l'ho trovato. Colpo di fortuna proprio. Guarda, eccolo, peli. Devo fare i tre buchi per la palla da bowling. Boeing plus bowling plus. Guarda, unisci. Altro elemento da unire. Certo, l'hai vedo il charme? Sì, eccolo lì. No, dobbiamo far vedere. L'ho fatto anche vedere. Questa mega bowl è il frutto di tutti i nostri bellissimi slime. Vi facciamo anche rivedere le meravigliose palline che li contenevano. Il video finisce qui. Dobbiamo farvi vedere tutti i nostri fiocchi. Guardate, questi poi verranno liberati definitivamente dallo slime che li conteneva. Domani ve lo faremo vedere. Sì, questo è il contenitore di una borraccia. E uniamoli. Allora, se per caso vi è interessato questo nostro video un po' imbranato perché è il primo, domani più esperte ci rivedremo. Quale collezione presentiamo domani? Sì, perché se non vi piace non siamo tristi perché non siamo ancora delle novelline. E domani quale collezione vogliamo presentare? Io ce l'avrei unire. Barbie! Ero proprio quello che stavo pensando. Domani vi presentiamo una collezione in cui in ogni pallina c'è una Barbie di un mestiere diverso. Tipo, che ne so, la veterinaria e un voglio dire altro. Sì, è quella che voglio io! Allora, ci vediamo domani per il video di Pasquetta. Sì. Salutiamo! Ciao! Ciao da Garbatella e da casa di Nathalie.